Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Era parecchio che non facevo un Q&A, l'ultimo risale alla prima quarantena e quella volta rischiai la vita, già perché l'avevo fatto con Monica, vista la quarantena non c'era possibilità di fuga e ne ho prese svariate. Vi lascio il video qui sopra se volete andare a rivederlo. Solito format risponderò alle più belle domande che mi avete fatto su Instagram. Cominciamo subito con domande leggere. Emanuele Fotia ci chiede come combattere la voglia assurda di moto con le poche finanze che abbiamo. A tutti piacerebbe avere un V4, un Harley Davidson da 25 mila euro in garage, ma se veramente la passione è tanta uno deve anche sapersi accontentare. Io sono stato fortunato, la mia moto dei sogni è sempre stata lo Strad, a 21 anni come a 35 e vista l'età è una moto accessibile a tutte le tasche. Però c'è anche chi magari vuole una moto da 7-8 mila euro e quelle già sono cifre più importanti. Io come consiglio sempre a tutti cominciate con qualcosa di poco costoso. All'inizio tutti noi vogliamo solo sentire il rombo del motore, sentire il vento tra i capelli e quello ce lo fa fare anche una moto da 1000 euro e vi assicuro che anche con una moto del genere, una moto datata, è possibile divertirsi. Andre underscore 0752 mi chiede, bestemmi se sì quante volte al giorno? No. Al contrario di molti meccanici non ho mai bestemmiato, mai lo farò. Sono credente, non ne vedo il motivo. Se c'è qualcosa e mi fa arrabbiare in officina? Tiro i cacciaviti a Cristiano e a Paolo e mi passa tutto. Moawak, il 2022 oltre a pistate e giri in moto ti porterà anche una fede al dito? No. Con Monica abbiamo fatto il passo più importante, casa. Quindi vogliamo solo pensare a godercela, a farci giri in moto col tagherone, viaggiare un po'. Quindi per ora nessuna fede al dito, però vi posso dire una cosa, magari in un futuro sì. Non sono del parere che serva un matrimonio per suggellare l'amore, però di certo è una cosa importante. Vedremo. Juva 1908. Qual è la moto a cui aspiri? Cioè non una inarrivabile, ma una che sai che ti farai e te la terrai. Allora, due già le ho, lo Strad e Vita. Quelle non le venderò mai. Però non vi nascondo che mi piacerebbe abbinarci un TL1000R. Un'altra Suzuki, lo sapete, so Suzuki caro. Il TL1000R, per chi non lo sapesse, visto che è una moto molto rara e che si vede pochissimo in giro, è la bicilindrica fatta da Suzuki per contrastare lo strapotere Ducati e Honda in Superbike. Peccato che non corse mai e corse lo Strad 750. Prima o poi me la compro. Jenny Stagliano mi chiede, per i due gusti personali è più comodo il Tiger o il KTM Adventure? Non ho mai nascosto, avendola avuta l'amore per il KTM 1290 Adventure. Però ad oggi lei è più sensata per me. A livello di comodità pura, secondo me è un gradino sopra, ma è un gradino sopra tutte le altre super enduro in circolazione. A livello di posizione di guida, di sospensioni, secondo me lei ha comodità a una marcia in più. Il KTM però dal canto suo ha un motore sicuramente più esplosivo, non per forza più godibile. Il tre cilindri del Tiger è veramente fantastico, io lo amo, ma a potenza pura il KTM vince. In sintesi, ad oggi ricomprerei il Tiger. Fra Underscore44 mi chiede, trovi foticoso lavorare all'officina e avere tempo per editare video? Vi posso dire? Sì. Tanti pensano che girare video ed editarli sia una cavolata, una cosa da poco. In realtà no, anche per me che ho un altro lavoro e lo faccio per passione, non per guadagnare, è una cosa che porta via veramente tanto tempo. Il girarli, vabbè, sfrutti l'uscita in moto. Il fatto è che poi, dopo una giornata di lavoro, magari torni a casa a 7, 7 e mezza, 8, ti devi buttare ad editare fino a mezzanotte, mezzanotte e mezza l'una. La mattina dopo ti rialzi alle 6 e ricominci. Quindi sì, è faticoso e da breve mi affiderò completamente a un videomaker perché la vita è anche giusto godersela, uno non può solo lavorare. Nicola Raci71, non ti scoccia uscire la sera, magari ad una cena, ed arrivarci col furgone? Francamente no, non si giudica una persona dal come arriva una cena, non siamo nel medioevo. Il furgone ad oggi è perfetto per le mie esigenze, lo uso per portare lei, lo uso per portare vita in pista. Magari in un punto ci vediamo con Monica, andiamo a cena, lei è col T-Max o col furgone, torniamo a casa insieme caricando il T-Max dentro. Non mi interessa apparire, non mi è mai interessato. Spero in un futuro, magari non troppo lontano, di poter coronare il mio sogno di comprare una Porsche, ma di certo non per farla vedere, per fare il quattro, no, ma per godermela io, i miei amici, Monica, mio padre. Iarileo, morte dei 604 cilindri per strada, che ne pensi? Penso che il mondo del motociclismo ha perso forse la categoria più importante. Chi non l'ha avuta non può saperlo, ma i 600 sono, a mio parere, le moto più divertenti da usare, sia in pista che in strada. Il nuovo filone di bicilindriche sportive tipo R7 sicuramente sono divertenti, ma nulla è in confronto a sentire il ruggito di un GSX-R600 di terza piena. Daniele Undescordorso, non si regge tutto il nome, quanto ti rode, visto che adesso è uscita la nuova Tiger 1.2? Assolutamente no, non avrei né potuto né voluto spendere 20-25 mila euro per una moto nuova. La nuova, vedendo chi l'ha provata, è sicuramente un passo avanti a livello di peso, non tanto di motore perché i cavalli sono una decina in più, però diciamo che è sicuramente più gestibile nel quotidiano rispetto alla mia, che comunque pesicchi abbastanza. Detto questo non mi rode assolutamente perché è una moto che quando so che devo prenderla magari per uscire, per andare al lavoro, mi sveglio più contento. Ciccone F, top 3 delle tue macchine preferite. Facile. Terzo posto, Porsche 911 GT2 RS. Secondo posto, Ferrari F40. Primo posto, Porsche 993 GT2. Maurizio4872, format nuovi per il tuo canale? Beh diciamo sono format che ho già annunciato, però a causa impegni vari, case eccetera, non ho ancora portato sul canale. Uno è il format Mostri dal passato e un altro è il Darietto Ring. Se volete saperne di più vi metto il video qui sopra. Francesco.alba, anche qui non si legge tutto il nome. Domanda forse banale, ma come stai? No, non è per nulla banale, anzi ti ringrazio. Bene, ma non ti nascondo che sono un po' stressato perché ormai sono mesi che abbiamo lasciato la nostra vecchia casa e ancora non ci hanno consegnato la nuova, quindi siamo appoggiati per ora dai genitori di Monica, che sono bravissimi per carità, ma comunque non è casa tua e non hai la libertà che una persona vuole avere a 35-30 anni. Per il resto con la schiena, grazie ai ragazzi di Atremed, va molto molto meglio. Non siamo ancora al top, ma siamo migliorati parecchio. Di certo non mi alzo più dal divano e crollo a terra per i dolori, quindi abbiamo preso la direzione giusta. Jumpo 72, una classifica secondo te delle attuali supersportive? Beh, Ducati col V4 2022 ha fatto veramente un bel passo in avanti. Secondo me le prime quattro sono V4 Aprilia a pari merito, un gradino sotto S1000 e poi R1. France DM82, a cosa pensi subito prima di fare una delle tue battute? Beh, io penso che in ogni cosa una giusta dose di divertimento ci voglia sempre. Al lavoro, in ufficio, a casa. Quindi ogni tanto una battuta ci sta bene se riesco a strappare qualche risata. pure qualche parolaccia, a qualcuno mi fa piacere. 19 Sisco 85, ma il TM con Spawald 92 sta tornando ragazzi. Sapevamo che sarebbe stato un progetto lungo, ma complici i nostri impegni in officina, complici i suoi impegni, è un progetto che sta andando un po' a rilento. Ci stiamo adoperando per far uscire una nuova puntata sul canale di Lorenzo quanto prima. Ultime tre domande e ve le faccio da qui, dal Tigerone. Mirco Palermo, se hai messo completo, filtro oppure semplicemente tolto il catalizzatore, ha senso rimappare? Ve lo dico una volta per tutte, sì, se mettete solo il terminale filtro sportivo, terminale che però lascia il catalizzatore, rimappare non gli fa male ma diciamo che non è necessario. La centralina, entro certi limiti, adegua la carburazione. Se però andate a togliere il catalizzatore, a mettere il completo, è obbligatorio rimappare. Non è che se mette il completo la moto non si accende, ma comunque è fuori carburazione. Non ha una carburazione ottimale per il vostro motore. Vi dirò di più, ad esempio il 1290 Super Duke R, ex mia, ora di mio padre, con il completo Agra ti davano una mappa fatta apposta da KTM. È sicuramente un'ottima soluzione, ma vi consiglio di fare comunque una mappa personalizzata al banco, perché la mappa generica che fa KTM non è ottimizzata per il vostro specifico motore. È una mappa generale per tutti i 1290 Super Duke R. Se volete qualcosa di perfetto, una carburazione perfetta e ottimale per la vostra moto, per il vostro motore, dovete per forza fare una mappatura al banco. Leandrocit 46, una turistica, può raggiungere la versatilità di una scuderone nell'utilizzo cittadino. Da possessore di Tiger e da possessore di T-Max vi dico che la comodità di uno scooter è impossibile da eguagliare per una moto, per una serie di fattori. Comodità, anche questa è comoda, per carità, ma è comunque meno gestibile di uno scuderone. Protettività, riparo dal freddo. Sullo scooter io ho due copertine, una per me e una per Monica. I maxi scooter sono in generale più bassi. Quando fa meno due, becchi l'acquazzone, quell'acqua fredda che ti penetra ovunque. è meglio gestire uno scuderone più basso, magari meno pesante, di un bestione del genere. Non avete una moto del genere, avete comunque un MT-07. Uno scooter, data l'assenza del cambio, data la loro facilità, è comunque sicuramente più comodo. Capacità di carico, idem. Io col T-Max, sottosella, bauletto, vado ovunque. Su una moto del genere devi mettere un bauletto e comunque perdi il sottosella. Le gambe sono più esposte. Diciamo che in città la comodità di uno scuderone non verrà mai, mai offuscata da una moto. Ultima domanda, molto bella. Madness Movies mi chiede Qual è il tuo ricordo più bello e qual è il più brutto legato alle due ruote? Il più bello è quando a Vallelunga, anni fa, un signore da sopra gli spalti venne a cercarmi in tutti i box per complimentarsi di come portavo lo strad. Nel 2013, nel 2014, vedere una moto di 15 anni prima andare forte, forte per noi a motori e superare moto con il doppio dei cavalli e comunque molto più leggere e sicuramente molto più giovani è una cosa bella e lui da ex possessore dello stesso modello voleva farmelo sapere. Il ricordo più brutto invece è legato ad un incidente. Un incidente che però non riguarda me. Eravamo su una strada tutte curve dopo Orvinio Ero il primo della fila Uscendo da una curva vidi uno contromano Riuscì ad evitarlo Appena schivata la macchina realizzai subito che però la persona dietro di me, il mio amico, l'avrebbe presa E infatti successe esattamente questo La macchina era contromano per superare dei ciclisti Il mio amico uscendo dalla curva se lo trovò davanti e lo vidi dallo specchietto andare per aria Per fortuna si salvò ma ebbe conseguenze fisiche importanti Vabbè lasciamo perdere le cose tristi La vita è bella e le moto ancora di più Spero che questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Sapete tutto Attivate la campanellina così non perdete i nuovi video Io e la mia fedele compagna di avventure vi salutiamo Ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 Ciao